Si è impossessata dei dati di un'anziana pensionata e ne ha approfittato per prelevare 1700 euro dal conto della donna. Adesso una 42enne agrigentina è indagata per furto e truffa. Secondo la ricostruzione investigativa, quest'ultima si è impossessata di una lettera di comunicazione che l'istituto di credito in cui l'anziana aveva aperto il proprio conto aveva inviato alla pensionata. La 42enne ha preso la lettera dalla cassetta della posta dell'abitazione dell'anziana e da lì ha ricavato i dati della persona offesa, presentandosi allo sportello della banca. Gli impiegati non hanno avuto il benché minimo sospetto e hanno consegnato alla donna la cifra di 1700 euro. Sul caso stanno adesso indagando i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento.